Bari è certamente la città con il maggior numero di contagi, 4.572 dal paziente 1 fino all'11 novembre scorso. Un dato pressoché scontato considerando il numero di abitanti. Meno scontato il fatto che nella top 5 dopo Foggia, Taranto e Andria ci sia Altamura, con 1.324 casi. Ma è scorrendo la graduatoria che si scoprono vere sorprese, come Gravina al settimo, San Giovanni al nono posto, Manfredoni al decimo. E poi piccoli comuni come San Marco Illamis, Lucera, Ortanova nelle prime 24 posizioni. Alla venticinquesima c'è Toritto, comune che ha solo 8.000 abitanti, ma che, pensate, è in vetta alla classifica del rischio. Su ogni 100 abitanti, infatti, se ne sono contagiati quasi 4. Nei piccoli centri ci si contagia più facilmente. Ne sono esempio anche San Marco Illamis, San Giovanni Rotondo, Ortanova, Taurisano e Noi Cattaro. Laddove ci sono eventi o ci sono strutture come le RSA presenti, nelle quali si è incuneato il virus, il numero dei contagi inevitabilmente è più alto. Quei focolai sono nati da funerali, da matrimoni, nei comuni più piccoli è più facile, perché si conoscono tutti, quindi è più facile che a un funerale partecipino tante persone. La percentuale, il tasso legato alla mia città è molto basso, perché la città è vero che è più facile contagiarsi, perché ci sono le aziende, le industrie, però è anche vero che ci sono zone dove non c'è una forte socializzazione. Se ci spostiamo in alcuni quartieri che hanno una valenza analoga a quella dei piccoli comuni, penso alla città vecchia, è chiaro che quella percentuale sarà sicuramente alto quanto Noi Cattaro, quanto Taurisano. Grazie a tutti.